Il Cilento e in particolare Castellabate e Agropoli hanno visto ieri la presenza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca per due grandi interventi, uno in partenza ovvero i lavori al porto di San Marco di Castellabate e uno ormai completato come la riattivazione dell'ospedale civile di Agropoli. De Luca ha risposto alle domande sul nosocomio e ha confermato tutto quello che era già stato annunciato. Abbiamo fatto i lavori per le sale operatorie, siamo pronti e stiamo procedendo all'assunzione di medici, radiologi e anestesisti perché nel mese di giugno apriamo il servizio 24 ore su 24 per radiologia, il laboratorio di analisi e fino alle 8 di sera anche cardiologia. C'è la possibilità di fare week surgery ed ospitare per qualche giorno i pazienti nella struttura in collegamento con il DEA di Vallo della Lucania. Stiamo preparando al meglio la struttura ospedaliera, preparandoci anche al raddoppio della popolazione nelle località turistiche. È doveroso farlo. Riguardo la data di riapertura del presidio agropolese, il governatore non risponde con precisione ma con la certezza di farlo in questo mese. Per la data non posso darvela perché stiamo facendo le assunzioni in questo momento, può essere giorno prima o giorno dopo, ma nel mese di giugno apriamo sicuramente tutto alla fine del suo intervento, De Luca chiude con una delle sue tipiche affermazioni. Ricordo sempre a qualche imbecille che ha alla memoria corta che l'ospedale era chiuso, sono venuto due anni fa e c'erano le catene.